Buon appetito! buonesi se vuole fermare il amore se vuole fermare il amore che non si sapeva tanto fiole bene, il tour lo vamos a fare con il traone, con la grande che è per la vista, tutte queste cose mi meido questo ladino è chiamato il ladino è che vorre la embarcazione va girare e questo ladino va girare la costa e faremo tutto quello che è in la costa però gli amici che stanno in mezzo o stanno a questo ladino abbiamo ampli ventanali al aire libre per sentire il aire salino che acariccia il nostro e in catà